1. Prima delle dieci. 2. Durante il viaggio. 3. Dopo il 1997. 4. Fino a mezzanotte. 5. All'una di pomeriggio. 6. Dopo dieci minuti. 7. Per due ore. 8. Dopo la lezione. 9. Prima di pranzo. 10. Durante il lavoro. 11. Dopo aver mangiato. 12. Fino a domani. 13. Alle dieci di mattina. 14. Dopo due giorni. 15. Per una settimana. 16. Nel pomeriggio. 16. Nel pomeriggio. 16. Nel pomeriggio. 16. Nel pomeriggio. 19. Nel pomeriggio. 19. Nel pomeriggio. 19. Nel pomeriggio. Grazie a tutti